Non è stato un po' di più, ma non è stato un po' di più. Da questa buona, l'Ubaese è subpranato da tutta via. In dei guerrotti, un suo ero quasi animo di 200 persone che ci stanno. Allora, a buon'ora, se volisce l'Ubaese questo prodotto speciale, sotto il sguardo di un mero, Antonia Alessandrini, che ha piato un'altra misura, comanda in Bastia un milaio di maschere da due assine Barretti Orte. C'è giunto qui in paese il coronavirus, allora si viene a noi breguzione, come qui a Agosto. Una orta a settimana è aperta e permette ai baisani di Biadou i soli di oastraffare senza azorte di Ubaese. È prezioso. Che fariamo? Sariamo obbligati a prendere la vittura per ogni movimento, per uguire gli altri prodotti di apposta. Dunque siamo veramente contenti di avere questa apposta qui. e poi abbiamo a nostra postura che è un piacere di bene e ci attirà anche là. Biggino e Ggino c'è anche un commercio per fare due corse. Buon appetito! Buon appetito! Si entra una presa l'astro con le mani pulite e ha comprato di tutto frutti, legumi, roba fresca e anche brutti per pulire. Per questa ora è stato presto fatto che aveva comandato l'anzioone. Paggiamo e ci non andiamo. C'è più a tutte le precauzioni. Ora c'è quella che c'è da fare, ma per le precauzioni che sono fatte, c'è un po' che può mica accarre qualcosa, non è possibile. E così non mi chiediamo di andare all'area o di zona, c'è la perfetta cosa. In antizonti non mancano i servizi. Anche i bampieri di Gizò, so quattro bai giorni sopra l'uogo e si dannano i bronti a interrueni, se ho Gizò, Gizò. Il ha falluto s'adapter, notamment per applicare i gesti barriere, ce n'ha mai stato ovviamente. Ma le repas si trattano due per due, on s'adapte. Pour in i bai e, se gomme in bila, sta da senti a keureggi di betta sa maladiia, c'è va genovrante.